ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi benvenuti nel primo video che faccio con i blocchietti vi presento il nuovo acquistino del canale allora oggi faremo un po' di test insieme farò soprattutto dei trigger che coinvolgono il microfono stesso e nella seconda parte del video non sarà un video lunghissimo nella seconda parte del video proveremo anche la spugnetta il suo copricapo se ci saranno dei tagli è perchè i cani non mi stanno dando tregua allora il motivo principale per cui ho preso questo microfono è perchè fa un suono spettacolare quando ci si fa tapping, scratching, brushing sopra è divino e anche finger flattering sentite quindi quindi so che mi vedrete con lo stesso look di un altro video e con le stesse unghie di un bel po' di video e con le stesse unghie di un bel po' di video dopo Pasqua andrò via e quindi devo un po' girare dopo andrò via avanti vogliamo parlare del tapping qui sopra potete chiamarmi Chiara Passione Tapping sui microfoni però no Grazie a tutti. Ah, è il Don Clicking con questo microfono. Io spero vivamente di essere a fuoco da parete. Ok, adesso proviamo un po' di dry. È il Don Clicking. Hesitate a sentire. Ok, adesso proviamo un po' di dry. Ok, adesso proviamo un po' di dry. Come anche la voce. Secondo me la voce non rende benissimo con questo microfono. Lo zoom è molto meglio. Però certi trigger sono pazzeschi. Anche i cani sono un trigger, vero? Ah, io ho notato quanto il mio rossetto liquido si è messo a mare. Non ci badate perché... Spero non siano lì così tanto in video. Adoro. 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 Partito. Adoro. Allora. Adoro. 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 ok, proviamo con queste stucchi grazie la risposta è sì farò un video dedicato ai suoni su questo crudietino twirling questo video è un po' così, un po' random giusto un pochettino avevo voglia tantissimo di testare questo microfono ok volevo testare anche il tapping e dopo si adesso testerò anche il brushing ancora e adoro il tapping su questa candela direi che per ora il computer sta facendo il bravo, non si sente? ok 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 il finger flutter flutter mi viene dato adoro adoro ok deve arrivare una mimica deve arrivare una mimica quindi non so devo tenere il cellulare in vista ora ora questo rimane il mio preferito però ora questo rimane il mio preferito è 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 il mio preferito ok 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 io direi che è ora della buonanotte ok 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 comunque ogni tanto facciamo un po' così perché sono ritornata in pissa con le teste di This Child perché ho guardato Black Panther un film bellissimo non è il mio stile ma è bellissimo se ti caglio un sacco io ho messo Survivor fra la colonna sonora mi sono rifissata fra Survivor e Say My Name sono tutte lì say my name say my name if no one is around quindi adoro I'm a Survivor bellissimi e quindi sono tutte lì un po' così ditemi se preferite il brushing sopra il microfono e così o con l'appuccino mi rimando la buonanotte e spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia rilassato mi ha rilassato moltissimo mi piace tantissimo per ora mi sta piacendo molto questo microfono però aspetto appunto il vostro parere quindi fatemelo sapere in tanti 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 buonanotte 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 un bacione che bello dargli baci senza un bacione che la esper faccia che le spera che le spera che Grazie a tutti